Fabrizio, un altro risultato positivo, un'altra vittoria convincente, un 3-0 che non ammette repliche, una prestazione ottima della squadra. Sì, è stata una partita anche abbastanza difficile perché sullo 0-0 ci stavano dato un gol, dubbio, poi dopo siamo riusciti ad andare in vantaggio però non siamo riusciti immediatamente a chiudere la partita. All'inizio del secondo tempo loro avevano un po' infoltito il centrocampo, non è che ci hanno creato problemi però magari non riuscivamo a chiudere la partita e ci ha tenuto un po' in apprezzione. Dopo la fine ci siamo sbloccati, è venuto il 3-0 che è un risultato bello però ripeto, buona prestazione, sono contentissimo, i ragazzi stanno continuando il processo di crescita, di amalgama, di gruppo, siamo sulla strada giusta, piedi per terra, andiamo avanti e adesso pensiamo alla difficilissima trasferta ai Montichiari che mi pare oggi abbiamo perso l'ultimo secondo a Correggio. Le prove dei singoli, Vignali ha ritrovato il gol dopo quello di domenica scorsa, protagonista anche nell'azione del cross di Zambarda per il gol di Tosi, Zambarda ottimo anche lui, Falchini ha ritrovato la rete dopo quella segnata su rigore la prima giornata, quindi tutto molto bene. Uno gli è stato annullato, non dimentichiamoci chi fa legna, chi corre e tiene la squadra compatta tipo Tosi, Remorini e Cigiarini, insomma che si dannano l'anima per tenere la squadra compatta e corta, due centrali, insomma tutta la squadra ha dimostrato grande compattezza e dà fiducia per il futuro. Siamo contenti, siamo alle prime giornate, quello che ho detto in settimana, noi dobbiamo arrivare quanto prima ai 45 punti, insomma vedremo quello che succederà adesso, stiamo con piedi per terra. Un'altra cosa, aspetto positivo da sottolineare, lo facciamo ormai da diverse domeniche, la tenuta difensiva anche oggi, tiri in porta del Fidenza non se ne ricordano. C'è stato un paio di punizioni pericolose, è l'atteggiamento della squadra che è giusto, magari ogni tanto ci allunghiamo, dobbiamo lavorare su questo per cercare di rimanere compatti ancora di più nell'arco dei 90 minuti, perché quando lo facciamo bene per gli altri dopo è dura trovare i varchi, è dura trovare gli spazi e se recuperiamo palla nella metà campo loro facciamo molto paura all'avversario, perché se la prendiamo nella metà campo loro le ripartenze nostre sono fulminanti. Ripeto, dobbiamo ancora lavorare sulla compattezza, però siamo sulla strada giusta, è quello che mi piace di questa squadra, che insomma tutti sono pronti all'uso e pertanto questi sono i connotati che piacciono a me. Gabriele, sei tornato al gol, il secondo in campionato, l'hai cercato in molta occasione oggi? Sì, l'ho cercato perché l'attaccante vive di questo. Sono molto contento sia per il gol ma anche per la prestazione mia e di tutta la squadra, perché oggi volevamo fortemente la vittoria e questa è arrivata, era importante. E niente, non è mai facile vincere anche se il Fidenza era in fondo alla classifica, però con molta voglia e molto carattere siamo riusciti a vincere questa partita difficile. Un avvio di campionato ottimo quello della formazione bianconera, quattro vittorie consecutive ma tutte meritate con largo vantaggio. Sì, stiamo bene, stiamo lavorando bene, c'è affinità tra di noi e piano piano crescerà ancora di più, però dobbiamo stare con piedi per terra perché il campionato è lungo, ci sono squadri forti, però noi affrontiamo partita per partita sempre con questa voglia per raggiungere la vittoria se ci riusciamo, ma insomma noi andiamo sempre in campo per fare il meglio possibile. Sottolineerei anche il rendimento dei fuori quota che stanno veramente giocando delle ottime partite. Sì, in Serie D è molto importante avere dei fuori quota bravi, noi ce l'abbiamo per fortuna a merito di loro e a merito della società che li ha cercati e insomma li ha valutati idonei per la Serie D. Una sfida in famiglia invece di quella tra te e Tosi, per il momento guida lui con tre gol contro due. No, ma è stimolante giocare con Federico perché sappiamo tutti che è un grande attaccante, io guardo anche i suoi movimenti in allenamento per migliorarmi anch'io, che ho tanto da imparare e lui è un buonissimo maestro. Dopo aver fatto il primo gol ci siamo un po' rilassati, però poi siamo riusciti a fare il secondo gol e abbiamo vinto bene. Allora, ribattezzato da Stefano Menconi, la pulce delle apuane, Andrea Vignali, seconda rete stagionale, una rete importantissima che ha sbloccato la partita. Sì, sono contento, sono perché ho già eguagliato i gol dell'anno scorso, quindi si può fare meglio, soltanto che meglio sotto la fase realizzativa, però l'importante è che abbiamo vinto e andiamo avanti con entusiasmo, voglia e poi arriverà tutto il resto. Una massese che anche oggi ha faticato magari inizialmente a sbloccare la partita, ma dopo con autorità è riuscita a vincerla 3-0, quindi un buon risultato, ancora una volta non si prende gol, è la terza volta su quattro gare, quindi dati positivi. Sì, importantissimo che prendiamo pochi gol, ne segniamo, quindi sono tutti dati importanti che ci fanno piacere, ci fanno e avanti così. Domenica ci attende una sfida a Montichiari contro l'atletico Montichiari che oggi dovrebbe aver perso proprio nei minuti finali contro la Correggese. Che partita sarà? Sarà una partita difficile, ma come tutte non ci sono partite facili. Andiamo là cattivi, con la voglia di vincere, poi non la conosciamo la squadra, quindi non possiamo dire le individualità, il collettivo che c'è. Comunque noi arriviamo preparati a partita di Montichiari. Grazie per la visione!